Sì, Casa Tua è un progetto che nasce casualmente da delle conversazioni fatte insieme con appunto la famiglia Noferi, in particolare da Stefano Noferi e la sottoscritta. Nasce con l'idea di dare una risposta nel sociale, ma una risposta che sia effettivamente concreta nel dare cosa, dare soluzioni. La Nardone Vazzola che nasce nel 2007, è un'associazione un po' particolare perché fa capo a un modello che si chiama Problem Salvi Strategico, un modello che è riconosciuto nel mondo per trovare soluzioni alternativi. L'idea quindi è stata costruire una struttura, una residenza per la quale la Noferi, Barbara e Stefano hanno investito del loro per far sì che questo progetto nascesse e la Ollus come gestore di tutta l'operazione e tutta l'operatività si occuperà di dare cose, di dare risposte e soluzioni ai ragazzi, ma non solo perché Casa Tua sono due strutture, Casa Tua Montevarchi è la casa che ospiterà i minori dai 6 ai 17 anni e per ognuno di loro ci sarà un progetto di vita che decideranno insieme gli operatori, mentre poi c'è Casa Tua San Giovanni Valdarno che sarà una casa di accoglienza per madri e bambini, per cui questo progetto nasce già in maniera un po' particolare. Ma in aggiunta a questo gli altri sponsor di questa iniziativa sono stati ovviamente l'amministrazione comunale, cioè il sindaco Silvia Chiazai e l'assessore Stefano Tassi hanno fortemente voluto l'apertura di questa struttura in questa cittadina per dare risposte al territorio che non fossero solo l'accoglienza di minori, ma anche risposte ai bisogni delle persone del territorio. Quindi la struttura ospiterà anche se tre servizi ulteriori, che sarà il doposcuola, che sarà fornito sempre sulla base dei suggerimenti da parte di assistenti sociali o del comune a quelle famiglie che non hanno la possibilità di seguire i propri figli e che magari quei figli hanno problemi o problemi nell'apprendimento o problemi di comportamento. L'altro aspetto sarà ospitare ragazzi con disabilità cognitive, vedi i bambini down, vedi i ragazzi down, che oggi hanno poche possibilità di sentirsi importanti nel sociale, quindi loro lavoreranno, collaboreranno con i volontari insieme agli operatori. Terzo e non per ultimo, per importanza, attueremo delle convenzioni con le scuole del territorio per fare cosa? Per aiutare e per far fare il tirocinio di formazione ai ragazzi che dovrebbero uscire dalla scuola non solo con un sapere, ma con un saper fare. Quindi casa tua è tutto questo e, come dico sempre, non c'è esercizio migliore per il cuore che aiutare gli altri a rialzarsi. Ma aggiungo che la Olus Tardone Vapsa nasce con una filosofia. Sii quello che vorresti che il mondo fosse. Casa tua sarà quello che vogliamo e i prossimi adulti, oggi ragazzi, vogliamo che sia. Grazie. Chiaramente insieme a altri, ma sono veramente i motivi per cui abbiamo avuto la voglia, il coraggio di portare avanti questa iniziativa, di ristrutturare questi immobili di risultati avanti. Ringraziamo la disponibilità di tutte le amministrazioni che insieme all'Associazione Nardone ci hanno dato la possibilità di arrivare a questo risultato. Grazie a tutti.